Anche quest'anno a Muralus si apre la Marathon a Teleton. Iniziamo il 6 dicembre con l'apertura di casa a Teleton con la vendita dei prodotti agroalimentari. Il 7 dicembre ci sarà la prima rassegna canina, sempre nel campo sportivo di Muralus. Alle 9 ci sarà l'iscrizione, l'apertura delle iscrizioni. Alle 13 il pranzo. L'8 dicembre abbiamo la caccia al tesoro per Teleton con inizio alle 9 sempre presso la palestra del campo sportivo. Mentre il 13 dicembre la serata conclusiva avremo alle 18 il concerto nella chiesa di Santa Maria Magdalena. Alle 9.30 il concerto finale presso sempre la palestra del campo sportivo.